Conclude questa panel Domenico Donvito dell'Istat e vediamo da che parte si porrà. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Dunque, direi di introdurre la mia presentazione scusandomi perché non sarà così sexy come quelle di alcuni oratori che mi hanno preceduto. E allora la facciamo più corta perché... Certamente. Diciamo che cercherò di superare lo sconforto in cui sono caduto vedendo le presentazioni cercando di raccontarvi una storia dei big data vista dall'Istituto di Statistica. Quindi in pratica mi ricollego al collega precedente nel concetto di storytelling. Come è stato detto all'inizio, il recente decreto che è stato emanato parla chiaramente di startup, parla di banda larga e quindi di eliminazione del digital divide, parla di open data, ma parla anche di Istat. Perché nel decreto l'Istat è menzionato a più riprese dal punto di vista del censimento continuo, come è stato menzionato, ma non solo, anche dal punto di vista dell'anagrafe dei numeri civici che l'Istat dovrà stabilire e mettere a disposizione. E parla infine dell'Istat anche a livello delle smart cities perché è prevista la costituzione di un comitato con nove membri, uno dei quali è dell'Istat. Quindi l'Istat è a buon nome e a pieno titolo in questo discorso dei big data, ma l'Istat come statistica ufficiale come si comporta, in che modo vede i big data? Quindi parliamone un attimo, come voi certamente sapete l'Istituto Statistico produce delle statistiche ufficiali in cui c'è una rigorosità nella produzione. Si parla di dati trattabili, si parla di acquisizione di dati in istanti predefiniti, si parla di qualità controllata con un processo di elaborazione ben definito. I big data non sono questo, sono una cosa diversa. I big data intanto si parla di dati con dimensioni non trattabili con tecnologie tradizionali, qui c'è un esempio della dimensione di questi dati. Si parla di dati in cui c'è un'acquisizione continua, alcune delle slides che sono state presentate hanno mostrato questi dati che affluivano e che creavano dei percorsi. Si parla poi di qualità non controllata e di processi di elaborazione e produzione in generale non definiti. Allora che significa che dobbiamo scartare i big data? Assolutamente no. I big data sono una risorsa e un'opportunità di cui dobbiamo tener conto. In che modo? Beh, intanto noi abbiamo delle metodologie tradizionali che oggi come oggi possono sfruttare delle tecnologie big data per produrre dei risultati. Un esempio che ho appena mostrato nella slide è quello del record linkage con architetture del tipo Hadoop e MapReduce. Sono le stesse architetture che sono state utilizzate da Google con un'elaborazione distribuita attraverso nodi indipendenti. Quindi si può fare. Quali sono le opportunità dei big data? Per noi, per tutti, per gli istituti di statistica ma anche per tutti gli altri. Ci sono nuove variabili, le online sales che finora non sono state misurate. Ci sono variabili ausiliari che servono a stimare meglio i fenomeni o a stimarli prima. Un esempio di una presentazione precedente era proprio questo. I dati forniti da una valutazione in tempo reale sono molto simili a quelli della valutazione fatta a posteriori. Quindi sono più utili perché più presenti e più disponibili in tempo reale. Ci permette di costruire informazioni che ci aiutino a capire i fenomeni. Si parlava di social data mining oppure a migliorare i risultati di quello che noi stiamo valutando attraverso un aumento dell'efficienza campionaria. Altre cose in cui ci possono aiutare i big data sono la possibilità di scoprire nuove cose attraverso le individuazioni di patterns. Alcune delle slide appunto mostravano delle trame. Si parlava appunto di trame fatte all'uncinetto ma in realtà sono trame che permettono attraverso una riflessione fatta da qualcuno che ha queste competenze miste, cioè informatico, statistico, storytelling, tirar fuori da dei numeri delle storie che poi sono utili per poter risolvere dei problemi. Perché il fine ultimo è risolvere dei problemi o migliorare l'efficienza di certi percorsi. Passo alla successiva. Ci sono alcuni esempi che ho fatto che però sono stati già ripresi precedentemente. Per esempio possiamo parlare di indice di disoccupazione inferito dai profili di attività. Si parlava di movimenti di persone nell'ambito di una città. Ecco, questo qui si può utilizzare per fare diverse analisi, tra cui questa. oppure la possibilità di calcolare il benessere e la performance sociale attraverso nuovi indicatori che sono provenienti da social media, telefonia, navigazione satellitare, social networks, eccetera. I big data comunque hanno dei problemi di qualità a vari livelli. Si parla di qualità del dato, da un punto di vista statistico ovviamente, statistica ufficiale, in termini di correttezza, affidabilità o reputazione della sorgente, oppure addirittura i metadati che indichino la provenienza del dato. è di recente stato stabilito da Google come un progetto primario, quello di validare la affidabilità dei dati. Si parla per esempio di fake profiles, cioè per esempio in Facebook quante di quelle persone che si chiamano John Smith sono in realtà John Smith o sono degli uomini o hanno quel tipo di profilo che è raccontato in Facebook. Questo è uno degli elementi su cui bisogna fare attenzione per quanto riguarda la qualità del dato di provenienza e i risultati che si ottengono a valle. Comunque i big data sono anche utili per migliorare la qualità da che punto di vista? Beh, per esempio nell'ambito statistico c'è il problema dei missing data. Nel caso specifico una grande quantità di dati può permettere, attingendo a un numero elevato di fonti, di ridurre questa problematica. Oppure si possono risolvere problemi di inconsistenza sfruttando la ridondanza delle fonti. Allora, qual è il ruolo degli istituti nazionali di statistica? Qui l'ho preso, diciamo così, dal punto di vista italiano ma anche dal punto di vista internazionale perché non siamo soli, diciamo, a affrontare questo tipo di problemi. Allora, i big data sono importanti, sono interessanti, sono utili? Sì, però abbiamo bisogno di definire le modalità. Per esempio, se si utilizzano tecniche di sentiment analysis o opinion mining, non sono direttamente attribuibili alla statistica ufficiale per le problematiche che ho elencato precedentemente. Il dato di statistica ufficiale è certificato da un processo di produzione che ne garantisce la qualità. Dal punto di vista internazionale, esiste un high level group for strategic developments in business architecture in statistics. È un gruppo che è formato dai presidenti degli istituti di statistica di diversi istituti a livello internazionale. Sono nove in generale. Benissimo, nel loro paper, nella strategic vision del gruppo, cosa dicono? C'è un'abbondanza di dati. In quest'ottica noi dobbiamo ripensare il modo in cui lavoriamo e la ragione della nostra esistenza. E quindi significa che dobbiamo anche ripensare i prodotti in quest'ottica, senza omologarsi ad altri providers di informazioni statistiche non ufficiali. In un recente meeting che è stato fatto a San Pietroburgo, ai primi di ottobre, intitolato Harnessing New Data Sources, tre key messages sono stati messi in luce. Il primo, big data is the next big thing. Quindi ci dobbiamo essere, come istituto nazionale di statistica noi dobbiamo essere lì. Il secondo punto, don't go alone. Il problema è ampio, complesso, non ci si può andare da soli. O comunque se ci si va da soli non si fa un lavoro efficiente. Bisogna andarci insieme ad altri, partire da una scala piccola e allargarla. Terzo punto, big data require filtering. Non è stato menzionato, ma il concetto di noise, con tutti questi big data, cioè filtrare la noise per arrivare al cuore dei dati che sono utili per risolvere i problemi, è il terzo punto. Cosa fa l'Istat in quest'ottica? Bene, l'Istat ha un programma pluriennale chiamato Stat 2015. In questo programma pluriennale, l'Istat assicura una regia complessiva, coerente, dell'intero processo di innovazione, in maniera tale da sviluppare i progetti in maniera coerente, con una visione di lungo termine e rendere quindi disponibili infrastrutture comune, servizi generalizzati e riutilizzabili. In quest'ottica, nell'ambito delle macrofasi basate sul GSBPM, che è il Generic Statistical Business Process Model, che è condiviso a livello europeo e internazionale, nella fase di acquisizione sono previste tre opportunità. I dati da rilevazione, i dati da archivi amministrativi e i big data, per i quali l'Istat si attrezzerà in termini di estabilire una strategia attraverso lavori, investigazioni e quant'altro. Nell'ambito delle iniziative, è l'ultima slide, quindi vado velocissimo, l'Istat sta partecipando nel concetto di lavorare con gli altri a una call for proposal a livello europeo. Insieme a chi? Beh, insieme a alcuni degli oratori che hanno parlato, perché ha un ruolo di associated partner nel progetto ricerca Futuracy, e ne menziono due. Uno è il social data mining, in collaborazione con il CNR di Pisa, per gli indicatori del well-being, e l'altro è l'open world of modeling platform, che facciamo insieme al professor Pedreschi, che ha parlato poco prima, nel caso di what if scenarios of social phenomena. Grazie. Grazie, Don Vito, anche per la gentilezza di avere contenuto l'intervento. Era ed è stato importante fare un focus su questo, perché poi alla fin fine la disciplina statistica non si scappa, resta un punto di riferimento. Noi al giornale riceviamo informazioni sul fatto che è stato fatto un sondaggio rappresentativo, ma basato sul fatto che ci sono delle persone che hanno risposto a una domanda su un sito. È evidente che la cultura fondamentale della qualità del dato, della critica del dato, della critica dell'idea di campione, di rappresentatività, resta una cosa della quale non solo non si supera con i big data, ma nemmeno è sufficientemente diffusa. Ce n'è bisogno e sempre più bisogno, e del resto la qualità dell'interpretazione poi resta fondamentalmente frutto, eredità e conseguenza della grande ricerca della statistica nel tempo. Il fatto che ci siano molti dati e che questi dati siano aggiornati in tempo reale genera un sacco di opportunità in più, e ben vengano. Noi solo le 24 ore non sapevamo se mettere le foto che ruotano da sole nella homepage oppure metterle le quattro foto una sotto l'altra. Abbiamo fatto la prova, dato un sacco di gente che ci passa continuamente, abbiamo visto le reazioni e alla fine si è deciso per una delle due soluzioni in maniera molto pragmatica, ben poco teorica, abbastanza empirica, supponendo che un mese di prova fosse sufficiente. Se fosse stata una cosa più importante, forse dovevamo avere un ragionamento che ci diceva perché un mese era sufficiente. Insomma, le cose non sono certamente finite così, ma il tema che abbiamo posto e del quale abbiamo avuto informazione con la discussione che adesso continuerà tra i nostri relatori, credo che sia stata di grande utilità. Io ringrazio molto l'Istat per averla organizzata e avermi dato la possibilità di partecipare. Purtroppo non c'è stato modo di fare le domande. Di solito in questi casi è colpa di chi non ha fatto bene i conti con l'orologio e lo doveva garantire quindi il moderatore. Dato che è colpa mia, se avete le domande cogenti, importanti, mandatemele. Io le giro ai nostri interlocutori. Nella mail potete fare luca.debiaset.gmail.com Vi assicuro che le giro agli interlocutori. Non so se poi avranno la forza di rispondere, ma almeno questo lo dico per farmi perdonare. Arrivederci. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.